Noi eravamo andati nel polaio di nonno alberto e nonno alberto per sbaglio ha spaventato una gallina e la gallina come un mitra mi ha sparato tutte le uova in faccia. Che uova erano? Uova Kinder. E allora sono queste le uova Kinder. E adesso le apriamo. Sì c'è un grillo anche. Vediamolo questo grillo e sarà saltato dal polaio. Wow si allunga. Wow si è aperto da solo. Vediamo la sorpresa. Proprio quello che hai fatto. Bello. Apriamo questo qua. Guarda che bello quello lì. Cos'è un lupo? Uno delle ragazze. Aglio pianta. Gnam 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 gnam. Vediamo questo qua mister lupo. Wow come un mandarino. Sono arrivato dallo spazio. Apriamo la cabina laser. Wow wow. Cosa c'è? Wow quello è difficile da montare questo. Non è vero. Non ce la fai? Questa signorina. Vediamo. Che cos'è? E' un signore con il cornone. Freddo. Non puoi andare fuori. Se no noi li scoffeggiamo. Ragazzi scoffeggetelo. Ho qualche altro poveto? Questo. Dai apri. So che vorresti mangiare tutto il cioccolato. Cosa? Oh ma un pulcino. Ma quello lì hai preso un uovo che aveva il pulcino. Nikita. Eh? E adesso cosa facciamo? Lo riportiamo alla socchioccia. Eh? Basta a mangiare il cioccolato. Questa fuori. Dai fa vedere bene il pulcino che hai trovato. Sì. Cos'è? Il pulcino Pio quello? Il pulcino Pio. Il pulcino Pio. Il pulcino Pio. La radio è il pulcino. La radio è il pulcino. Il pulcino Pio. Il pulcino Pio. Il pulcino Pio. Noi sapriamone ancora uno. E un cucchiaio anche. Mi è già capitata una volta. E vediamo cos'è? Una signorina. E monta la signorina. Oh adesso è pelata. Wow. Cos'è? È ancora uguale? No? Questo qua si illumina al buio. Sì? Si illumina. E cos'è quel filo che c'è? Ah per attaccarlo. Sì. Farlo vedere com'è. La faccia si illumina tutta al buio. Sì? Questa cosa è uguale. Quasi. Oh. Brichi. Ciao. Vediamo se si illumina. Oh. Cambia colore al sole. Eh. All'acqua. Sì? L'acqua fredda. Cambia colore. E l'acqua calda. Allora. Diventa blu. Sì? Cambia colore con l'acqua? Con l'acqua fredda. Diventa blu e con l'acqua calda diventa... diventa normale. Ah. Senza mangiare il cioccolato che ne hai già mangiato. Ok. Questo qua lo so già montare. Cos'è? Un panda? si. Io ne ho già capitato qualche volta. peuxvidre? Puoi vedere bene. Adesso siamo! L'ultimo vetto! Oh oh. Vediamo cosa c'è dentro? Giallo è! Questo qua è giallo. E cos'è quello? lui banana e vediamo quello com'è è diverso? diversissimo questa che serie era Nikita? era ghiacciale era glaciale? si, ciao ciao da Canane Nikita se mangiate troppo cioccolato diventa un astruzzo attenzione grazie a tutti